arnando franzini buongiorno nel trambuso della felicità della vittoria sulla triestina domenica scorsa è passato in secondo piano per tutti un traguardo importantissimo suo personale le 100 panchine con il lumezzane sì diciamo che me l'hai fatto notare tu appena prima dell'intervista io non ci stavo pensando però diciamo che l'occasione per festeggiare 100 panchine è stata una partita importante una prestazione importante quindi sono sono molto felice ecco e poi anche coincidente che sia venuto con una partita disputata così dalla lumezzane in attesa di celebrare la dovero e visto che tra l'altro 100 panchine con quasi 50 per cento se non più di percentuali di di vittoria è vigilia si si affronta domani sera la la gianna erminio in trasferta e dopo quello di trento che poteva essere un po un esame di maturità non andato benissimo c'è l'occasione per testare il polso di nuovo sì sono d'accordo adesso veniamo da una partita praticamente perfetta contro contro una squadra molto importante tutti sappiamo benissimo che il campo della gianna è un campo complicato una squadra che domenica ha fatto benissimo e noi vediamo dobbiamo lasciare toglierci i panni della della squadra che abbattuto la triestina belli umili belli concentrati andare a cercare di far punti mantenendo quelle che sono le nostre caratteristiche nostre prerogative che sono di squadra che prova a giocare squadra che prova a vincere su tutti i campi parlando di programmazione della della società è arrivato in settimana il rinnovo di pisano un segnale importante anche vista futuro ma penso che sia un premio giusto meritato credo che la società quando quando uno da tutto quando uno si in campo a parte discorso tecnico che quello non si discute ma temperamentale di leadership insomma dimostra quello che tutti i giorni non solo la partita ma ogni allenamento credo che sia giusto premiato chiudiamo con una nota alietta c'è stato il ritorno in campo in settimana per i primi allenamenti di ragazzetti dopo quasi due mesi sì finalmente perché ha avuto un brutto infortunio che l'ha tenuto fuori diverse settimane dopo un anno intero praticamente un anno e mezzo intero ha passato a fare 90 e passa a minuto ogni partita quindi per lui non è stato facile e adesso pian piano gradatamente rentrerà nel gruppo e poi ci darà una mano come ha fatto in quest'anno e mezzo grazie grazie a voi